Partiamo da un semplice assunto. I calibri Omega Coaxial sono i migliori movimenti meccanici prodotti in serie che l'orologeria mondiale possa offrire. Il cuore di ciascuno di essi è costituito dal primo scappamento funzionale per orologi meccanici messo a punto negli ultimi 250 anni. In breve, lo scappamento coaxiale riduce gli attriti all'interno del movimento determinando nel tempo una migliore performance cronometrica. Dettagli quasi microscopici raccontano la storia del coaxial. Un'ancora dotata di tre leve in rubino, del peso impossibile da immaginare di 4 millesimi di grammo. Una doppia ruota coaxiale in grado di sopportare ogni anno più di mezzo miliardo di sollecitazioni. Un bilanciere a spirale libera in silicio, leggero quanto un settimo di chicco di riso. Il passaggio dalla teoria alla pratica è stato reso possibile grazie ai nostri maestri orologiai che hanno fatto del loro mestiere una vera e propria arte. Un team di visionari e innovatori con un senso della realtà unico che assistito da strumentazioni all'avanguardia realizzate appositamente produce da oltre un decennio Calibri Coaxial. Niente di meno che un punto di svolta nella storia dell'orologeria moderna. Grazie. Grazie. Grazie.